Tutto da rifare per i 400 dipendenti del gruppo 6GDO di Castelvetrano. E' saltato, almeno per il momento, l'annunciato accordo con la società GKSPA dei Fratelli Capone, che aveva mostrato vivo interesse alla gestione del gruppo 6GDO. Dopo una serie di incontri, sembra che la GKSPA dei Fratelli Capone di Catania, titolare del marchio di supermercati cui conviene, che a Palermo ha già prelevato i punti vendita confiscati alla mafia a Ferdico, non ha firmato l'accordo propedeutico al contratto di affitto di impresa, con l'Agenzia dei Beni Confiscati. La firma era prevista per lo scorso 14 gennaio. La notizia si è appresa da fonti sindacali. La CGL di Castelvetrano, che sta seguendo giorno per giorno le sorti dei 400 dipendenti del gruppo che fu di Giuseppe Grigoli, condannato per associazione mafiosa, sta partecipando alla delicata fase di contrattazione tra lo Stato e il gruppo catanese. In questo momento, afferma Gaspare Gioramita, segretario della Camera del Lavoro di Castelvetrano, la trattativa si è interrotta per alcune incomprensioni gestionali da definire nell'accordo ufficiale. Tuttavia, aggiunge Gioramita, riteniamo che i margini per ricucire questo strappo tra le parti ci siano. Noi faremo ciò che nelle nostre possibilità per cercare di concludere positivamente questa trattativa al fine di salvaguardare i 400 dipendenti. In altre parole, i sindacati sentono la preoccupazione forte dei lavoratori e delle loro famiglie e auspicano che le parti possano smussare le attuali controverse contrattuali e partire al più presto con il nuovo progetto imprenditoriale che prevede la gestione dell'intero gruppo 6GDO con il metodo di affitto di impresa per la durata di 6 anni da parte della GICAP SPA di Catania. Il motivo del contendere tra lo Stato e la società catanese pare sia il mega cedi di contrada strasatto a Castelvetrano. Intanto, sul fronte degli stipendi, è notte fonda. Ad oggi, i lavoratori, nonostante la cassa integrazione, aspettano diversi mesi di paga. Tanta la preoccupazione tra i lavoratori e la loro famiglia per il futuro occupazionale all'interno del gruppo fondato dal re dei supermercati Giuseppe Grigoli negli anni 90. Un re spodestato dalle inchieste giudiziarie secondo le quali l'imprenditore sarebbe stato un prestanome del boss latitante Matteo Messina Denaro.